Villa Banfi, Carnate La villa, che risale agli ultimi decenni del 600, presenta una pianta adù tipica delle ville lombarde, che risulta però rovesciata. Il cortile principale non guarda verso l'ingresso, ma verso il giardino. Una cancellata precede una semplice facciata, con il corpo centrale più alto e al centro un portale arcuato, con un balcone barocco. Superato il portico della villa, si arriva al cortile interno, dove la veduta si apre sul parco all'inglese, che scende verso la vallata del Molgora. All'interno rimane un monumentale cammino seicentesco, con uno stemma a cartoccio e frammenti di affreschi. Nel 1732, vicino alla villa, fu costruito l'oratorio barocco di San Provo. Costruita dai marchesi Fornari, la villa passò poi ai Banfi e infine al comune di Carnate. Fornari